Sempre più forti le pressioni su Laurent Gbagbo, contro l'ex presidente della Costa d'Avorio che continua a non riconoscere la vittoria del suo avversario, l'Assan Ouattara, si è schierata anche la comunità economica dell'Africa occidentale. Se continuerà ostinatamente ad ignorare ultimatum e sanzioni internazionali, i leader africani interverranno militarmente. Mentre Gbagbo è arroccato nel palazzo presidenziale, Ouattara, dall'albergo in cui si è rifugiato con il suo governo, ha esortato l'esercito, ancora fedele all'avversario, a passare dalla sua parte in nome della giustizia e del popolo ivoriano. Sono state commesse serie violazioni dei diritti umani. Durante il coprifuoco alcune persone sono state rapite e giustiziate da elementi della Guardia Repubblicana, della Polizia e delle Forze di Sicurezza, aiutati da mercenari e miliziani stranieri. L'ONU ha adottato giovedì una risoluzione che denuncia le atrocità commesse dopo le elezioni. I rapporti parlano di 173 morti, 90 casi di tortura, 471 arresti e 24 scomparse forzate o involontarie.